ben trovati cari telespettatori benvenuti su fano tv canale 17 in diretta sono le 7 del mattino abbiamo la rassegna stampa abbiamo il commento alla stampa del giorno oggi è giovedì ma il 13 di maggio 13 maggio una giornata importante per i fedeli di tutto il mondo perché andiamo a vedere il cartello oggi la chiesa ricorda la beata maria vergine di fatima l'apparizione di fatima e tre pastorelli 5 45 il l'alba 20 29 il tramonto uno sguardo come sempre a trebimeteo.com prossimi giorni rovesce temporali con rischio grandine ecco le regioni coinvolte ma andiamo a vedere come sempre nel dettaglio la nostra regione che si pubblica il sito trebimeteo pubblica il quadro della mattinata eccolo qua poi il pomeriggio con l'aumento della pioggia questa è la sera andiamo a vedere venerdì domani ancora sole e nuvole nella mattinata il pomeriggio di nuovo peggiora e la copertura nuvolosa con le piogge più marcata nel corso di della serata di domani i giornali allora subito Corriere Adriatico edizione di Pesaro Urbino apertura l'ex ristò orario light orario leggero poche le prenotazioni rispetto alla media e dunque ieri il centro vaccinale pesarese ha chiuso in anticipo ancora alti però i contagi in provincia di Pesaro Urbino zone anti covid regione le regioni in pressing chiedono al governo di rivedere per quanto riguarda poi le decisioni da prendere sulle restrizioni o meno l'indice RT che viene giudicato superato e poi vi faccio scoprire Palazzo Ducale il direttore Gallo fa da guida ad Urbino e notizie in breve sempre dalla prima del Corriere a Pesaro tutte e tre da Pesaro hotel in fermento ma 400 turisti russi andranno in Albania piazzale d'annunzio residenti protestano per gli stalli tagliati e poi perseguitata dall'ex l'ho denunciato ho trovato la forza per farlo nella sequenza dei fatti invece la verità sul ragazzo ribelle seri il sindaco di Fano delle ragioni sulla sua della sua firma sul TSO ci sono motivi che non posso divulgare per riservatezza e poi qui di spalla parlando di futuro Lady Gabrielli e il dopo Covid più attenzione alle emozioni ovvero per riportare la gente nei negozi bisognerà in qualche modo emozionarli far fare loro delle esperienze che diversamente su internet non possono fare acquistando su internet invece il carlino di Pesaro diciamolo ai violenti questa è la foto notizia di oggi con la foto in piccolo qui nel riquadro lo vedete di Simone Pasquino che è la vittima dell'aggressione alla Rocca Manatestina di Fano i due amici ricorderete 18 anni e 17 anni diciottenne con lo smalto nero alle unghie questo è stato il pretesto da parte di un gruppo di giovani a Fano per poter attaccare brighe quindi andare a finire alle mani ad avere la peggio però non è il ragazzo con le unghie smaltate ma il compagno 17 anni che ha tentato di difenderlo il titolo invece d'apertura è 1 10 100 mila contagiati raggiunta la soglia simbolica l'epidemiologo Pompili delle Marche dice ora il virus non farà più male come prima mentre sul TSO allo studente allo studente che viene definito non mask cioè che non vuole indossare la mascherina il sindaco Seri dice non potevo fare diversamente andiamo allora a vedere adesso le pagine anzi no c'è una pagina che ho segnalato anche di Anconi il credo di Anconi guardate questa fotografia terribile questa fotonotizia di questa macchina decapotata guardate in che condizioni era l'autista che era alla guida la moglie del direttore generale di ospedali riuniti Michele Caporossi sua moglie è finita sotto questo furgone del corriere Bartolini che tra l'altro l'autista di Bartolini ha detto io l'ho vista dallo specchietto che stava venendo addosso mi stava venendo addosso e non ha frenato quindi mi è finita sotto però si è saldata però guardate la macchina in quali condizioni è stata trovata allora adesso le pagine le pagine interne che abbiamo selezionato per fare la nostra rassegna del mattino cominciamo da Fano questa mattina cominciamo da questa dalle parole del sindaco dalla versione dei fatti o se vogliamo usare un termine abusato che ormai si sta facendo venire la nausa la narrazione adesso va di moda la narrazione prima per un po' c'è stata la resilienza adesso la narrazione allora vediamo questa narrazione e questa storia che sta tenendo banco ormai da diverso tempo sul giovane diciottenne che è stato portato in psichiatria c'è stato quattro giorni dopo un tso trattamento sanitario obbligatorio firmato dal sindaco sindaco che a differenza di chi ha firmato che aveva competenze per farlo sicuramente perché parliamo di una psichiatra e di un medico del pronto soccorso sindaco che l'ha firmato perché ovviamente doveva farlo ed è stato preso di mira da tutti da un sacco di gente un po' in tutta italia e allora dopo un po' di giorni di silenzio il sindaco ha deciso ieri alle 13 convocando i giornalisti nella sala della concordia del comune di Fano di dire la sua e noi abbiamo trasmesso in diretta sul canale 17 di Fano tv e sui social i nostri canali social abbiamo trasmesso tutto quanto in diretta allora tso non potevo fare altrimenti questo il titolo del resto del carino ha seguito per il carlino la conferenza Anna Marchetti e scrive così il tso questo è un aspetto che il sindaco ha voluto sottolineare il tso non è legato a quanto accaduto nella scuola e al fatto che il ragazzo non indossasse la mascherina in classe ma è attenzione una richiesta partita dai medici del pronto soccorso del santa croce dove il 18enne è arrivato volontariamente e dai medici specialisti quindi da questa richiesta di tso come abbiamo detto anche ieri è partita da due parti diverse il pronto soccorso e dal reparto di psichiatria quindi scuola e pronto soccorso sono due momenti distinti e separati il giovane non è mai stato prelevato dall'istituto con la forza poi sempre da questo articolo nei giorni scorsi dice il sindaco seri ho assistito a diverse ricostruzioni dei fatti molte non corrispondenti non rispondenti alla verità elemento che ha portato a numerose reazioni in alcuni casi ricercate e organizzate dopo aver ascoltato le dichiarazioni del giovane maggiorenne il quale ha scelto di stare sulla scena dopo le prese di posizioni di diversi personaggi e le inchieste televisive come quelle delle iene servizio su fanno andato in onda mercoledì sera ho sentito il dovere di fare chiarezza per ricostruire la sequenza dei fatti così come si sono svolti da quanto emerso ha detto seri si è capito che c'era la ricerca di una platealità cioè la voglia di mettersi in mostra di farsi vedere di fare come dire di essere protagonista in qualche modo quindi la ricerca di una platealità di questo ragazzo diciottenne platealità comunicativa e sono emersi condizionamenti per raggiungere determinati obiettivi cioè qualcuno che ha condizionato esternamente questo ragazzo per raggiungere questi obiettivi di platealità oltre a strumentalizzazioni politiche abbiamo visto come subito si sono affrettati a chiedere a fare in qualche modo chiedere al ministro quello e quell'altro insomma tutte queste cose che chiaramente andranno avanti ma ripeto e qui adesso andiamo sul Corriere Adriatico la storia non è raccontata al 100% nella sequenza dei fatti titola il Corriere Adriatico nella sequenza dei fatti la verità sul TSO imposto al ragazzo ribelle serie le ragioni della sua firma ci sono cose che non posso dire per riservatezza scrive Osvaldo Scatassi sul giornale di sul Corriere Adriatico ora se voluto fare chiarezza dice ancora Seri anche se per motivi di discrezione Seri si riserva di spiegare altri aspetti della vicenda nelle sedi che si riterranno opportune chiaramente perché ci saranno evidentemente anche dei dati cosiddetti sensibili ora quando il personale del commissariato qui è racconto ok allora le cose sono andate così dice il sindaco quando il personale del commissariato e la polizia locale sono arrivati sul posto il ragazzo stava già uscendo di sua spontanea volontà dall'edificio insieme con il medico che era appena intervenuto il trattamento sanitario obbligatorio non è dovuto all'assenza della mascherina perché messa così in effetti faceva abbastanza stridere è invece una richiesta partita dal pronto soccorso dove è stato portato il ragazzo ora è dove non sappiamo esattamente quello che sia successo il motivo per cui due specialisti o meglio uno di sicuro perché è una psichiatra ma prima ancora quello del pronto soccorso abbiano poi deciso di applicare appunto il TSO che resta con gli elementi che noi abbiamo giornalisticamente parlando un fatto abnorme ma poi ripeto bisogna capire il perché evidentemente hanno deciso e questo lo spiegheranno i medici non certo i giornalisti ma a chi poi dovrà dare ai quali dovranno dare delle risposte lo spiegheranno meglio nelle sedi opportune intanto ribadisco quindi dice ancora il sindaco che il TSE non è legato alla scuola ma è legato a quanto è accaduto in pronto soccorso parliamo di due momenti distinti e separati Amadori invece che è il portavoce del sindaco che è qua di fianco lo vedete sulla sinistra del teleschermo di fianco al sindaco Serri il portavoce del sindaco ha ricordato che dalla scuola è partita la telefonata per segnalare uno studente senza mascherina incatenato al banco una chiamata che ha attivato le forze dell'ordine sia un'ambulanza ora e chiudiamo poi qui la pagina c'è da dire una cosa al di là del ragazzo di 18enne che tutti si sono affrettati a dire ah ma è giusto che protesti è giusto che dica la sua è giusto che dica sì, è giusto ma lo deve fare fuori dalla scuola non dentro la scuola se si tratta di qualcosa che può mettere a repentaglio la salute pubblica perché un conto se si incatena a un banco perché protesta perché i libri di storia sono tutti spostati a sinistra e allora questa è una cosa ideologica uno lo può fare e lo ascoltiamo e buonanotte ma siccome qui c'è un problema sanitario e senza la mascherina se il ragazzo fosse stato positivo avrebbe contagiato metà della classe se non tutta o comunque avrebbe fatto dei danni a livello sanitario ok allora quel ragazzo doveva essere spostato fuori poi il TSEO rimane sempre qualcosa che secondo me poteva essere evitato però non abbiamo gli strumenti per poter dire se hanno fatto bene i due medici o hanno fatto male lo vedremo con il tempo che sarà galantuomo come sempre intanto il sindaco dice ancora che cosa può fare a proposito di questa firma che deve mettere il sindaco perché è obbligato a farlo che cosa può fare un sindaco predispone allora l'esempio che dice non è magari dei migliori ma ipotizziamo di una perizia tecnica che è una perizia tecnica che segnali un ponte a rischio di crollo ok quindi un ingegnere dice quel ponte è a rischio crollo che cosa fa un sindaco dice no quella strada siccome è molto trafficata io non posso chiuderla perché qui ci passano tutti eh no il sindaco che non è un ingegnere cosa fa? firma la stessa cosa come dicevamo ieri che cosa poteva fare un sindaco che non è uno psichiatra non è uno specialista deve firmare punto e basta guardate questa fotografia invece questa fotografia è di un di quel ragazzo che è stato picchiato per aver difeso l'amico Afano preso di mira per lo smalto alle unghie si chiama Simone lui stesso ha pubblicato quindi a quel punto era inutile anche come dire offuscarlo per la riservatezza perché è minorenne quindi dal punto di vista no anche nostro giornalistico dei mezzi di informazione bisognava garantirgli in qualche modo l'anonimato e la riservatezza però l'ha fatto lui su Instagram Instagram è un mezzo diffusissimo quindi ha mostrato le ferite vedete il naso l'occhio l'occhio destro ecco tutte le ferite riportate in questa aggressione l'aggressione adesso non stiamo a ricordarla perché l'abbiamo già spiegata più volte quello che lui dice noi giovani non siamo violenti ognuno di noi deve avere il diritto e la libertà di esprimersi e vestire come gli pare e su questo a mio giudizio insomma non c'è molto da dire insomma adesso la moda quello che volete insomma l'essere libero il sentirsi libero eccetera eccetera quello che io condanno sempre e a me dispiace leggere è quando poi i politici cavalcano l'onda e mi dispiace che ci sia sempre di mezzo il sindaco di Pesaro Ricci con il quale io ho tutta la simpatia del mondo però fa solo questo cavalca sempre queste situazioni ha messo di mezzo ancora il DL Zanna l'altro giorno oggi se ne esce fuori Ricci con quest'altra cosa in supporto al giovane con cittadino ha lanciato l'hashtag o lo smalto nero il sindaco Matteo Ricci o lo smalto nero rilanciando il post con cui Simone Pasquino ieri mattina è uscito dall'anonimato per lanciare un messaggio a tanti giovani ecco o lo smalto o lo smalto nero vediamo ha lo smalto nero ma comunque insomma ecco questo per dire che adesso volevo fare un discorso su questo ma lasciamo perdere che è tardi sono le 7.17 andiamo avanti lutto nel mondo dell'etere è morto Antonio Grasso fu editore anche di Radio Città Radio Città è una radio di Pesaro i funerali si interranno domani nella chiesa di Santa Croce in via Lubiana mentre sono ancora gravi le condizioni di Matteo Montanari che è un imprenditore di Senigaglia qui lo vedete nella fotografia e purtroppo anche qui mentre è ancora steso a terra ed è rianimato dai medici del 118 dei sanitari del 118 Montanari resta grave i medici del Torrette vogliono attendere 72 ore prima di pronunciarsi sulle condizioni dell'imprenditore senigalliese la città ovviamente è in ansia questo è un incidente che si è verificato martedì intorno alle 13 lui era in sella la sua Honda 1000 quando ha ortato su un lato una Fiat 600 guidata da una 22N di Fano un volo di alcuni metri prima di finire sull'asfalto il primo a soccorlo è stato un odontotecnico un dentista che ha lo studio a pochi metri abbiamo già ricordato Luca Stefanelli e quindi adesso pare che stesse tornando dal vaccino aveva fatto il vaccino a Fano così ho letto da qualche parte di questo si parla anche sul Corriere Adriatico forse dopo lo vedremo a pagina 3 invece sulla questione della pandemia il virus è in ritirata nuovi fronti in ospedale Marche Nord di Pesaro si organizza aumentando i posti letto posti letto cosiddetti puliti ma i malati non Covid affollano ancora il pronto soccorso e c'è il nodo infermieri quindi diciamo c'è da una parte il calo dei contagi che c'è e quindi evidente anche nelle strutture pesaresi ma come abbiamo detto Pesaro purtroppo ancora fa fatica c'è anche macerata che non sta tanto bene anche oggi la situazione da quelle parti non è che sia delle migliori però ecco c'è questo andamento che poteva essere più spedito verso il basso ma che in realtà continua a continua a dare qualche pensiero alla Regione intanto c'è una storia che viene raccontata sempre sul giornale di questa mattina sul Carlino di una donna che dorme in auto davanti all'ospedale di Fano al Santa Croce perché c'è il padre ricoverato dentro l'ospedale e dice io non posso entrare nessuno mi dice niente io sono 12 giorni che combatto con gli ospedali sia di Pesero che di Fano e stanotte ho pure dormito in macchina per stare accanto a mio padre perché è in pronto soccorso da martedì a Santa Croce martedì pomeriggio e ad oggi cioè mercoledì non so ancora praticamente niente questa è la denuncia di Gladiola Stepani che racconta di come insomma il padre che ha 68 anni cardiopatico che non si sentiva bene è stato mandato a casa poi rimandato in ospedale avanti e indietro insomma 12 giorni che fa la spola tra ospedali sia di Pesero che di Fano adesso è parcheggiato tra virgolette all'ospedale di Fano al pronto soccorso di Fano però non la fanno entrare perché è covid eccetera e quindi praticamente dorme in macchina pur di stare accanto al padre ora questa è invece la pagina sempre del Carlino un'intervista a Marco Pompili che è il responsabile dell'osservatorio epidemiologico delle Marche che racconta di come da quel 24 febbraio 2020 quando ci fu il primo contagio da noi è stato un percorso lungo da quel giorno tante cose sono successe e primo fra tutte è lo sfondamento della quota 100.000 contagiati perché poi ci sono anche i numeri che danno meglio di qualunque altro il polso della situazione quindi 100.000 100.000 contagiati le vittime non si fermano intanto c'è anche un 57enne un osimano ricoverato torrete diminuiscono i degenti negli ospedali e diminuiscono anche quelli più gravi gli hotel gli hotel non si gli hotel sono in fermento perché non ci sono regole precise non si si capisce bene come si potranno fare queste vacanze in che modo se con il pass vaccinale se se con un semplice tampone quanto durerà insomma le incognite sono tante e quindi gli hotel sono in fermento perché ci sono per esempio a Pesaro 200 turisti russi che non arriveranno più dovevano venire per la fine di giugno ma andranno in Albania sono vaccinati però sono vaccinati con lo Sputnik che è il vaccino russo ma in Italia così come in Europa non è stato validato quindi è come se non l'avessero fatto e di conseguenza c'è troppa incertezza un'incertezza che rende tutto quanto più difficile tutto quanto più difficile Frontino invece è un comune un piccolo comune una piccola isola felice che resiste già da un mese è covid free scrive il Corriere di questa mattina il sindaco in questa fotografia di Frontino Andrea Spagna indica il paese insomma guardate che spettacolo scenario tutte colline tutte verdi gli ultimi positivi erano della stessa famiglia siamo ancora guardinghi cioè stiamo attenti non è che abbiamo aperto le porte insomma a chiunque ma comunque il più piccolo comune della provincia di Pesaro dà l'esempio e il sindaco resta prudente dunque intanto nella vicina San Marino partirà adesso il turismo vaccinale mentre a Cantiano Cantiano chiede rinforzi dal punto di vista medico il pensionamento infatti del dottore della zona spinge il sindaco Piccini a scrivere ad Asur e alla regione manca questi piccoli paesi quando manca il dottore perché va in pensione diventa un problema che riguarda tutto il tutto il paese la cronaca a pagina 8 del resto del Carlino spaccio di stupefacente in carcere un detenuto a rischio processo è accusato di aver ceduto le pasticche di oppioidi ad altri reclusi ma lui dice sono stato costretto a farlo con minacce poi invece perseguita il vicino di casa perché è convinto che ha una tresca con la moglie e dunque si parla di stalking condominiale a sfondo sessuale il vicino finisce a processo per il reatti di atti persecutori nei confronti del dirimpettaio che accusava di essere l'amante di sua moglie l'episodio successo del pesarese risale a diversi mesi fa e teatro della vicenda di questa vicenda di gelosie presunti tradimenti è un condominio in cui abitano diverse famiglie e tutto nasce quando il tarlo si insinua nella testa di questa persona e quando ci si convince di qualcosa ogni minimo spostamento ogni minima parola ogni minima cosa viene valutata in modo esagerato e quindi ecco i primi sospetti sulla simpatia tra sua moglie e il vicino di casa e poi il racconto lo troverete a pagina 8 del Carlino di oggi a Fano invece sosta a pagamento in Viale Adriatico Piazza Costa Piazza Costa parcheggi salvi a metà cancellati solo quelli utili all'attività all'aperto degli esercizi commerciali lavori anche in Via Dante poi l'inutile strage di piante per fare posto alla pista Ponte Sasso abbattute una cinquantina di Tamerici la Lupus dice per il tracciato ciclabile non era necessario Tamerici che voglio dire con tutto per carità sono Tamerici non è che siano bellissimi come alberi insomma sembrano lì sempre mezzi rinsecchiti nulla a che vedere con quelle belle palme giù di Civitanova di San Benedetto che sono meravigliose però vabbè magari non sono adatte per il nord della regione ma comunque adesso questo è insomma 50 Tamerici non ci sono più il catamarano invece di Biologia Marina si incaglia all'imbocco tra i due moli questa è la foto di questa di questa barca che si chiama Andrea Scaccini che ha imbarcato sabbia e subito ingenti danni Piccinetti dice ci vuole una draga per il porto perché evidentemente ancora c'è fango sotto quindi tocca e si torna al problema annoso di sempre l'imbarcazione rientrava dopo una missione sugli scogli di Pedaso attacco personale di chi non conosce le norme Biancani sulla ciclovia del Metauro attenti al danno erariale resta gravissimo il motociclista era andato a fare il vaccino ecco la notizia che vi dicevo sull'imprenditore Montanari ferito martedì sulla strada mentre gli ecologisti ecologisti a metà vogliono la bici ma tagliano tutti gli alberi vedete questo titolo un po' polemico che però ci sta perché perché vogliono la ciclabile vogliono gli alberi insomma vogliono la bici ma tagliano tutti gli alberi l'accusa dell'associazione ambientalista Rupus in Fabula un'orribile spianata di asfalto e di cemento bandiera blu Arzilla e Lido siamo sempre a Fano orfane per poco mentre Fano Nord Sonia e Torrette come abbiamo detto ieri si aggiudicano il vessillo per le altre spiagge si attende la vasca di accumulo in funzione entro fine mese Reginelli di Aset dice il monitoraggio delle acque è già iniziato davvero sicuramente il prossimo anno sarà bandiera blu ovunque intanto il dibattito sulla ciclovia del Metauro va avanti con il nuovo progetto i fondi sono al sicuro per i 5 stelle i 4 milioni e mezzo non andranno persi furgone invece guardate questa fotografia un furgone cabinato che è rimasto incastrato nel sottopasso delle rane capita a volte è successo già altre volte furgone resta incastrato nel sottopasso un'ora per liberare il mezzo che ha danneggiato l'arcata strada chiusa e traffico in tilt poi ancora itinerario siamo a Fossombrone del silenzio e della fede il suo cuore batte a Fossombrone nuove iniziative di Confcommercio l'anteprima nel santuario del beato Benedetto Passionei che si trova appunto sopra Fossombrone ma guardate questa foto a destra Filippo Magnini e Giorgia Palmas ex velina di strisciare notizia Filippo campione di nuoto Filippo e Giorgia hanno detto sì sposi non vedevamo l'ora dicono cerimonia intima per il campione di nuoto e la showgirl con loro anche la piccola mia quando sarà il momento festeggeremo con tutti i familiari e con tutti gli amici l'ultima pagina per lo sport Dramma Fano tre positive al covid rischio focolaio e play out in bilico è tutto grazie per averci seguito buona giornata grazie a tutti